Ho trovato per caso questo santino, Maria Santissima del Soccorso. Dietro c'è la devozione e le preghiere da recitare in mese di agosto. Ora provvederò a raccontare tutte le preghiere che bisogna fare in mese di agosto. Secondo me, se trattandosi della madonna del soccorso, io penso che sia anche un'ottima alternativa al vaccino. Cosa più efficace questa terapia del mese di agosto. Allora, si parte con il primo agosto, con un 20 paternoster, 20 avemaria, un credo e un salve regina. 2 agosto, 9 paternoster e 9 avemaria. Il 3 agosto è un po' più impegnativo. 9 avemaria, 21 salve regina e 13 credo. Bisogna andare con calma. Il 4 agosto, anche qua, è abbastanza pesante la situazione, che siamo a 36 paternoster e 15 avemaria. Il 5, andiamo più tranquilli, ma non più di tanto, perché siamo già a 12 paternoster, 15 avemaria e 25 salve regina. Il 6 agosto, che oltre ad essere l'anniversario dello sgancio della bomba di Hiroshima e anche il capodanno raeliano, ma il 6 agosto siamo sul 999, l'eremita. 9 paternoster, 9 avemaria e 9 salve regina. L'8 agosto, il 7 agosto invece, siamo invece sul 777, che fanno 21. Arriva la volante, non c'è nessuno. 7 paternoster, no, 7 avemaria e 7 salve regina. L'8 agosto, o l'8 agosto è un 48. E si parte la mattina presto, perché è impegnativo, eh? Con un 25 paternoster, 25 avemaria e 3 salve regina. Il 9, boh, anche il 9 stai a dormire in chiesa che fai prima, perché siamo già a 13 paternoster. 13 avemaria e 3 salve regina e un credo. Il 10, oh il 10, è della terapia intensiva, eh? Oh il 10 è pesante, eh? Si va da 40, 40 paternoster. 40 paternoster. E 40 avemaria. 40 madonna, eh? Taldeca fa 80, eh? Qua si vola alto. 11 agosto, un'altra serie di 7, un 7 paternoster, 7 avemaria, 7 salve regina e 7 credo. Cioè, fai l'alba. 12 agosto, 12 paternoster e 12 avemaria. 13 agosto, qua siamo sui 14 paternoster, 14 avemaria e 6 salve regina. E poi siamo al 14 agosto, 33 paternoster e 5 avemaria. Il 15, il 15 che è ferragosto, ma è anche l'immacolato di Pentecoste, quel cazzo che è. E quindi, eh, qua si parte pesante. Mentre tutti sono a divertirsi, a fare le grigliate, andare al mare, in montagna, fare passeggiate. Tengi l'occhio in chiesa, di testa bassa. Ma li giunte a recitare 72 avemarie. Io, mi sa che ne tirerei su anche un po' di più di 72. 7 paternoster e 7 salve regina. 16 agosto, 10 paternoster, 9 avemaria e 3 salve regina. 17 agosto, 32 avemaria e un paternoster. 18 agosto, 9 avemaria, 9 salve regina e 3 credo. 19 agosto, 32 avemaria e una new entry. Non di poca importanza, ma 5 gloria. Quindi, vediamo in it parida anche il berzo Tossi. 20 agosto, 15 avemaria, 3 salve regina e 25 paternoster. Poi si arriva il 21 agosto e qua finisce la terapia. Con un 12 avemaria, un 7 salve regina e 3 credo. E con questo vi saluto e vi auguro tanta salute e felicità anche da parte della Madonna del Soccorso di Castellammare Castellammare del Golfo. Castellammare del Golfo di Sorrento, immagino. Dove un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Castellammare del Golfo di Sorrento, immagino.